Ciao a tutti amici di youtube e benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati su Spore come avevo già detto nella precedente puntata di GTA Se non l'avete vista andatela a vedere Birichini perchè è molto bella Vabbè a parte cosa succede perchè sto zoomando Posso zoom? perchè posso zoomare? Vabbè ci sarà un video al giorno, adesso sta registrando No perchè prima mi ha giocato un brutto tiro e non stavo registrando Non so per quale motivo Bene noi eravamo arrivati alla fine della fase cellula Quanto sei brutto amico mio E direi di evolvere Esatto, proprio quello Bene questa è la nostra storia, siamo diventati carnivori perchè ovviamente non abbiamo mangiato tanta verdura E quindi saremo stitici per tutta la vita No, non è vero mai Noi siamo partiti da questa cosa qua, non so se ve la ricordate Siamo arrivati a sto coso che non so come definirlo sinceramente Ok, adesso ci evolveremo, intanto scorreggia Perchè, perchè si Perchè è bello scorreggia Quanto è bello scorreggia Parapaparaparapar Allora, visto che è carnivoro Gli mettiamo la bocca carnivora Sì Oh madonna Troppo grande Questi Mi sembra che diano salto ma non mi interessa C'ha delle gambe un po' attaccate Le allargo Ok Qua le ingrandisco No, troppo Mi sembra che ci abbia il culo Il culo C'ha il culissimo Oh mio dio Gli ho fatto il culo Oh mio dio Ok, lo tengo così No, no, lo tengo così Non c'è niente da fa Faccio un po' più grandi Anche qua Ma dai, ma c'ha il culo È È Mickey Minaj È praticamente Mickey Minaj È un pochino Cioè, insomma Non tanto Però No Un po' troppo esagerato Ok Eh dai, però è carino A me piace Quanto costa questo? Dieci Questo quanto lo vendo? Ah Quanto lo vendo? A venticinque Perfetto Gli aculi Aculi Ok Oh, così è figo Così è bello Mi piace Olè Lo chiamiamo sempre Irene Perché se no il mio avvocato mi uccide Aia Mi sto ammazzando Ecco qua Siamo alla fase creatura Fra poco Vediamo cosa possiamo incontrare Pronto Eccole qua Avevo letto distribuzione della metanfetamina Però va bene Cos'è sto schifo? Cos'è? Cos'è dovrebbe essere? Eccoci qua Un coso col culo Gigante Ma che rumori fa? Cos'è? Ma è un gatto Fa miau Perché? Perché c'ha il culo? Dio c'ha Perché gli ho fatto il culo questa creatura? Guarda che roba Ma dai Ma che è? Ma io posso essere Stronzo C'è nel senso Vabbè Sì lo sappiamo Lo sappiamo Io questa lo so già Ve lo spiego brevemente Alla fine Cos'è? Che? C'è una cosa morta qui per terra Va bene La mangio Ole Beh Semplicemente funziona come nella fase cellula Noi raccogliamo parti Ci evolviamo L'unica differenza che dobbiamo andare in giro A cercare altre specie E farcele o amiche o nemiche Semplicemente quello cambia Adesso noi potremmo anche già Evolverci se vogliamo Ma non so I punti Proviamo a vedere se possiamo Almeno Pronto Dov'è quel tizio? Eccola qua Dai Accoppiatevi Come dei luridi Non capisco perché non ci sia la musica Ma Madonna C'è Guarda veramente con quel culo Dio santo Dai Sembra che caghi Cosa sto guardando? Perché? Oh mio dio Cosa fa? Ho creato un mostro Ho creato un mostro Sì lo so Beh allora Vediamo Questi costano 25 Questo se la vendo Va bene Direi di tenercelo così Il colore non glielo cambiamo Lo facciamo così Ok Ho fatto uno schifo C'ha il culissimo questa cosa Guarda che roba Mi mostra il culo Che occhi grandi Madonna Devo imparare a caricare Ok Eccolo qua Eccolo qua Ho fatto Yeah Siamo bravi Dai però Ok Allora Aspettate un attimo Perché non capisco Perché non si sente la musica Bene Bene andiamo A cercare altre specie Oh ma Eh madonna Dai ma sculetto Come cazzo Cammina poi? Ma mi sa che l'ho fatto un po' Troppo Oh mio dio Mi sa che l'ho fatto un po' Strano Perché cammina Stranissimo Cosa sono sti affari? Cosa dovreste Cosa dovreste essere? Oh mio dio Cosa Cosa sono? Ma sono brutti Io sono più bello Quindi vi ammazzo Sì vi ucciderò Anzi vabbè dai Visto che siete qua vicino Al mio Al mio nido Vi faccio amici Va Che sai Può sempre servire Olè Semplicemente Ah Va bene Sì lo so Ok Semplicemente ragazzi Non so se vedete qua In alto a sinistra C'è Una missione Che dice O impressiona O uccidi Noi adesso Non dobbiamo impressionare tre Perché ovviamente Abbiamo iniziato a impressionarli Quindi adesso Ah no Vieni qui Non volevo Mi scusi No Non scappi So che sono brutto Quanto la morte Però non importa Dai Possiamo diventare amici Siete brutti Quanto la fame pure voi Ma non importa Tra brutti possiamo Cos'è Ho preso una bocca nuova Ok Sembra veramente Che ci abbia il culo Madonna L'ho fatto veramente brutto Ma brutto brutto Lo fa Ma brutto 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 Ne Va bene Questi sono diventati I nostri amici Scusate che mi fa Fa spiscio ovunque Sono diventati i nostri amici E noi andiamo avanti Imperterriti Per la nostra Opera di bene E distruzione Cioè dipende Cosa vogliamo fare Questi Fammi vedere Oh mio dio Che cazzo Ci hanno in testa Questi qua Ma io sembro Cell Per quale motivo Cell col culo Ma vieni qua Ma siete bellissimi Ma io vi voglio Come amici Siete belli Olè Questi sono I nostri amici E noi Passiamo di livello Diventiamo più furbi Più intelligenti Più belli Cioè oddio insomma Sembra una specie di Che cazzo è Sto affare Non saprei Ah Non saprei definirlo Veramente Sì lo so Adesso possiamo Avere un alleato Con noi Noi ci prendiamo La parte Intanto Olè A posto Terror Terror Pinto Va bene Non so cosa sia Però ok Mi fido di voi Dove sto andando Ok sto andando Verso il nido Non ho tante parti Quindi vorrei Prima cercarne Un altro po' Prima di Accoppiarmi ancora Vediamo qua Questi Kringkut Ok E' una bestemmia In polacco Cos'è Questi Oh mio dio Ma sono bellissimi Pure questi No ma io voglio Ucciderli Quattro Non dovrei uccidere Ma io proverei A farmi gli amici Pure questi No mi sa che Non ce la faccio Questi qua Sono troppo Sono troppo Furbi No niente Mi dispiace ragazzi Dovrò Dovrò Stuprarvi male Perché siete stati Cattivi con me Aspetta che prendo Ah vini qua Qual è Piporecchio Va bene E' una bestemmia Pure quella Mi sa In polacco Probabilmente Non lo so Vediamo se riesco Ucciderli Perché mi sa Che sono abbastanza Forti Vabbè proviamo Pronto Ok Ok forse ce la posso fare Mi sa che dovevo Prendere un altro Un altro membro Della Della squadra Però Vediamo se riesco Ucciderlo Così Forse si Forse si Eccolo qua Mangiamo Squalloide Va bene Quell'iconetta Significa che c'ha una parte Molto importante Da prendere Quindi noi Le uccideremo Prima che uccida noi Magari Dai 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 che ce la puoi fare Ole Madonna Sembra Masticasauro Va bene Sono delle parti Veramente strane Ok No Non andate in acqua Stronzi Guarda questi stronzi Che vanno in acqua Venite qui Vieni qua Guarda che vi uccido Aia Guarda che il mio culo è più potente di voi Ole Morto un altro Adesso ne manca uno Che è quello la che sta scappando Vieni qua Non scappare Vieni qui Ole A posto E questa qua È fatta fuori Cosa succede? Mangia Mangia Madonna quanto sei brutto Sei orripile Sei orripilante Sei un aborto Della natura Veramente Per direi scherzi Beh direi di andarci a devolvere Ho 170 punti Quindi Direi che va Più che bene Ok Direi di farci Amico Uno di questi Perché ci può sempre servire Uno in più Cioè unirene innamorata Che dolce Che dolce poesia Polesia stavo per dire E anche polenta Ogni tanto Oh sì Lo so Lo so Non serve che me lo spieghi Lo so già Ok Accoppiamoci Vieni qua che ci accoppiamo Baby Non vedi il mio culo sexy Ah ecco la musica Madonna No No Questa scena è orribile Questa scena è veramente No Non girarti Non girarti No L'ha fatto L'ha fatto Madonna Sembra veramente che caghi Quando si accovaccia È una cosa orribile Da vedere Oh bene bene Abbiamo delle nuove parti Abbiamo Cos'è Non so cosa sia Ah potremmo mettere Delle mani In effetti O delle O dei piedi più veloci Adesso lo facciamo Un attimo meglio Va Ok Occhi per adesso Non ce ne sono Io gli metterei le antenne Perché è bello Con le antenne Ecco qua È bellissimo Oh Oh Felice Triste Felice Triste Felice Triste Felice Triste Ok basta Lo faccio triste Perché è bello Sembra tipo Pluto Molto Molto alla lontana Però ok Mani Posso farle Posso fargli le spallacce Tipo Oh mio dio È bellissimo Aspetta Così Madonna Sembra un bodyguard Oh mio dio È Pluto È una cosa orribile Scatto 2 Pendice Luminosa What La cresta Oh Gli ho messo la cresta Oh Eccolo qua Un gallo è diventato Va bene Va benissimo E li cambiamo colore E lo facciamo Così viola Perché Oh madonna Ok Cosa succede Cosa succede Ah già Oh madonna Quanto sono brutti Dio Oh mio dio Oh Mio dio Oh mio dio Ho fatto La razza Più brutta Della terra Cos'è Cosa dovrebbe Essere Adesso per un po' Non posso nemmeno Cambiarli Perché hanno migrato Mio dio Ma sembra Una specie di Non lo so Sì lo so Ole Cosa succede Ah Devo imparare a posare Hai ragione Certo che Che fascino Può avere Sta creatura Però a quanto pare C'ha del fascino Ok C'ha del fascino Però Va bene Perché Ululano Che se sono Dei lupi Va bene Ragazzi Mi dicono Che il tempo È finito Quindi Io Stacco Questa puntata Ci vediamo Alla prossima Ovviamente Ci vediamo Domani con GTA E dopo domani Con la prossima Dispore Come sempre Vi ricordo Che se il video Vi è piaciuto Di iscrivervi Commentare Condividere Mettere mi piace Se vi va Ditemi se vi va bene La webcam Ho dovuto fare Un attimo Un po' Meno Dettagliata Perché se no Mi crasha il mondo Perché è un computer Che è una caffettiera Purtroppo Ditemi se vi piace Sto schifo Che ho fatto Perché È bello Fino a un certo punto Insomma Dio santo Ebbene Io vi saluto Ci vediamo Alla prossima puntata Ciao fioi